vai via mi risponde il vaccino è verità vai via vai 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 il vaccino è gratuito il vaccino è gratuito il vaccino è gratuito il vaccino è gratuito non è così non è così non è così non è così vogliamo sentire Enrico 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 grazie purtroppo tutto questo è figlio di una grande ambiguità che la politica è la politica irresponsabile a generale da una parte ci siamo noi che è una responsabilità non è possibile di Dio per avere chiaro e di meravigliere da un'altra parte purtroppo c'è la riva responsabilità di quei partiti che hanno deciso di flertare con questi concetti e di cercare dei voti immaginando che tutto questo possa alla fine aiutarli a che cosa ad avere un voto in più ma ad avere una situazione in più bravo tante persone credono a questi concetti tante persone che riescono a portarci di questi concetti tutto questo tutto questo non è libero in altri paesi noi abbiamo bisogno you've seen that this is